Sono Giorgia e sono qui per consigliarvi Journalism Academy. Io penso che il corso sia stato molto interessante, gli argomenti che sono stati trattati sono stati trattati in maniera molto pertinente. Il programma è davvero vasto, con argomenti che vanno oltre a quello che può essere il giornalismo da manuale. L'informazione si sta colpendo e sicuramente questo programma ne ha tenuto conto per formare dei giornalisti che non deludano mai i propri lettori. Dopo il successo dell'ultimo corso sono aperte le iscrizioni per la quindicesima edizione della Journalism Academy del Quotidiano Italiano. Se avete la passione per il giornalismo, se amate scrivere, se amate interessarvi di ciò che accade intorno a voi, contattateci. Andate sul sito mmcommunication.net e nella sezione Il Quotidiano Italiano troverete quella relativa alla Journalism Academy. Un grande spazio viene dato al web content editing, quindi allo scrivere per il web, grazie anche a Pillole di Copywriting. Un programma completo, fatto da persone competenti. I nostri insegnanti infatti sono stati Antonio Loconte e Gianluca Lomuto. Sono dei grandi professionisti, restano lì sempre pronti ad insegnare e allo stesso tempo a correggere il tiro di ciascuno di noi, focalizzandosi molto spesso anche persona per persona. Credo che avere degli insegnanti che considerano la loro professione, più che una professione, un mestiere e che spiegano dei argomenti, ovviamente partendo da esempi di vita, vissuta, quindi dei giornalisti che stanno sempre in prima linea, sia stato l'elemento fondamentale che ha permesso la riuscita di questo corso e che lo distingue da tanti altri tipi di corsi. Anche quest'anno i candidati meritevoli, selezionati attraverso il curriculum vite e una video call con i nostri tutor, avranno diritto a una borsa di studio che coprirà l'80%, avete capito bene, l'80% del costo dell'intero corso. Quindi non perdete tempo. Per avere informazioni sul programma dettagliato e sulle borse di studio, oltre che per candidarvi alla Journalism Academy, andate sul sito internet mmcommunication.net, sezione Il Quotidiano Italiano, Journalism Academy. Vi aspettiamo. Le lezioni sono molto scorrevoli, bellissime, e tre ore volano come se niente fosse. L'organizzazione delle lezioni e del corso in generale è stata di poco perfetta, e questo anche grazie a Marino e ad Alessio, i nostri tutor, che ci sono sempre venuti incontri, ci hanno sempre aiutato, hanno sempre risposto ad ogni nostra esigenza, ad ogni nostra difficoltà, quindi il mio grazie va a loro per essere stati sempre così disponibili. Detto ciò, a chi sogna come me di lavorare nell'ambito del giornalismo, consiglio vivamente Journalism Academy. Ciao!